www.canale58.com, la tv sul web, notizie, video, rubriche, diretta streaming, scarica l'app di Canale 58 per tablet, smartphone, iphone. www.canale58.com Il PD di Ariano ha attraversato un periodo difficile dalle votazioni a questa parte, avevamo diverse componenti al nostro interno, molte anime con altri obiettivi e soprattutto un PD che veniva commissariato, perché c'era la precedente governance che non reggeva, ma non per scelta ma solo perché c'erano state delle frantumazioni determinate dalle votazioni del 2013. Ecco io credo invece che questo lavoro certosino fatto ad Ariano è servito tantissimo, siamo l'unico circolo della provincia che ha fatto un congresso, lo ha fatto in modo unitario e ad un PD provinciale molto frammentato noi abbiamo avuto la forza e la capacità di dimostrare che se uno le cose vuole fare nell'unità le può fare. Abbiamo scelto un giovane, un giovane sicuramente che ha tanta stoffa e tanta voglia di lavorare, Raffaele Grasso, che ha dimostrato non è la carica che lo rafforza, ma il lavoro che ha fatto precedentemente è un ragazzo già impegnato, sta partecipando a una scuola di formazione a livello nazionale, e crediamo che sia una delle figure su cui bisogna investire. Adesso questo nostro lavoro che abbiamo fatto sul territorio stiamo cercando di interfacciarlo con Ermini a livello provinciale perché il congresso a livello provinciale venga caratterizzato proprio da lo stesso criterio, lo stesso metodo. Senta, chiederà una rappresentanza nel direttivo provinciale una volta che si sono definite le questioni? E perché mettere un limite, non la segreteria generale? Io credo che se i partiti devono riconoscere un ruolo, questo ruolo va riconosciuto. Non tanto alla forza, e la forza anche noi l'abbiamo, ma anche alla capacità, e noi la capacità l'abbiamo dimostrata. Quindi probabilmente chiederemo di più. Senta, vorrei da lei una riflessione. Il Partito Democratico ad Avellino è più precisamente nel provincia alla vicepresidenza. Come la mettiamo? Credo che questa sia una delle pagine che non fanno onore al PD, perché il PD, quando abbiamo fatto le votazioni per il presidente della provincia, pur avendo la maggioranza, è stato in grado di fare eleggere Gamba Corta con i voti del PD. Credo che questo trasformismo della politica non sia un bene. Noi abbiamo preso posizione, perché anche questo è un elemento di chiarezza che va fatto. Non ci può essere un PD che Ariano è opposizione a Gamba Corta, e poi un altro PD che Avellino coordina e concorda tutto. Credo che questa doppiezza del partito non aiute. Quindi noi adesso verificheremo proprio di far chiarezza rispetto a questo comportamento. Senta, quindi lei sposa l'idea del senatore Cosimo Sibilia, secondo la quale si dovrebbe avere un'identità maggiore nel Consiglio Provinciale? Beh, ma credo che il senatore Cosimo Sibilio parli più a Forza Italia. Però Forza Italia ha solo due consiglieri, quindi il PD ha giusto merito, rivendica un ruolo e una rappresentatività. Quindi alla vicepresidenza era più che dovuta. Cinque consiglieri su dodici mi sembra una forza predominante. Ora il problema è un altro, è che se in caso di candidature doveva essere fatta una staffetta non era corretto cambiarla all'ultimo minuto. Però il problema di Sibilia penso che sia un altro, cioè se la candidatura di Gamba Corta forse è più o meno opportuno. E come abbiamo visto non è stata fatta una scelta opportuna. Senta, io ho visto molta ironia sulle mancate dimissioni del sindaco, ovviamente da parte sua. Ci siete rimasti male che non si è candidato? Eravate pronto a scendere in campo? Ma noi siamo sempre pronti, ovviamente. Non è che aspettiamo le sue dimissioni. Per la verità c'è stato un consiglio comunale fatto nel mese di margio, dove noi abbiamo chiesto, personalmente ho chiesto espressamente al sindaco, quale fosse la sua reale intenzione, perché era giusto che la città venisse a conoscenza, perché è legittimo da parte sua candidarsi, però è anche legittimo che la città sappia che cos'è. Lui ha ritenuto in consiglio comunale di non rispondere proprio, di far fin che la domanda non fosse mai stata rivolta e oggi ovviamente stiamo assistendo a questo balletto. Da allora noi non abbiamo chiesto più niente e oggi dobbiamo prendere atto che siamo stati lungimiranti, perché noi avevamo scommesso sul fatto che Campagorta non si candidasse, ma non per un fatto di scaramanzia, perché tutto il progetto politico che lui aveva messo in piedi stava franando e di conseguenza non c'erano più le condizioni. Resta un rammarico però, e questo riguarda più la maggioranza di questo comune che l'opposizione, che lui aveva il dovere, nel momento in cui stava facendo una discussione sulla candidatura, di informare i suoi colleghi di strada e di percorso politico sulle sue reali volontà. Credo che non sia un bene che un sindaco tenga all'oscuro di quello che sta pensando o sta realizzando, perché non solo fa male al suo gruppo politico, ma fa male anche alla città. Lui non ha messo minimamente i suoi di partito nella condizione di sapere se si candidava o non si candidava, fino all'ultimo secondo, e questo non è corretto. Comincia la stagione autunnale durante la quale i partiti prendono posizione sulle problematiche. Quale sarebbe il primo argomento di cui Michele Casso si vuole fare portatore e ovviamente dare delle risoluzioni alle problematiche? Noi dobbiamo prendere atto che ormai siamo a due anni delle votazioni politiche comunali di Ariano e delle amministrative di Ariano. Io questa città, non so qual è il giudizio dei cittadini, io non l'avevo affatto cambiata per la verità. È vero che adesso vengono fatti degli interventi di manutenzione nella zona centrale della città. Giorgione è andato giù, fino a prova contraria come struttura. Però il volto di questo nostro territorio non è affatto cambiato. Noi non siamo... il traffico è cardito, è rimasto inalterato. Per quanto riguarda i fondi di ristrutturazione, sono rimasti gli stessi. Sì, sul cimitero c'è una proposta che sta girando a tempo, però non ne usciamo e non ne veniamo fuori. Dopo infatti ne parliamo. Quindi credo che i problemi strutturali sono rimasti inalterati, quindi siamo di fronte a un fallimento. Noi incalzeremo sui problemi che abbiamo già sostenuto in precedenza. Oggi è all'ordine del giorno la questione dell'AMU, trasporto e gestione appunto dei parcheggi. Le parole di Fioriello, amministratore unico, la convincono. È di questo pomeriggio un comunicato del capogruppo di Forza Italia del Comune di Ariano che dissente un po' dalle posizioni di Fioriello. Lei come la vide questa situazione? Diciamo che sul problema dell'AMU c'è stato un dibattito in Consiglio Comunale specifico molto molto forte. perché quello che personalmente sostengo, ma sostiene il PD, è che questo servizio pubblico dei trasporti tenuto conto della nostra peculiarità territoriale debba restare in capo al Comune. Noi non avremo mai un altro servizio nelle nostre contrade così articolate e così distanti. Ora, la legge Madia è una legge che non è un aborto o una forzatura come la maggioranza vuol far capire. La legge Madia è una legge che permette di razionalizzare, rendere efficiente le società pubbliche. È chiaro? Dopodiché chiarisce un criterio che per avere la titolarità della società tu devi avere l'80% del fatturato che è determinato dall'impegno del Comune. Ora, il Comune di Ariano Irpino nella realtà ci mette il 40%, il 45% di capitale. L'altro è un capitale che prende dalla provincia, quindi da un altro ente pubblico. La furbata dell'amministrazione che cos'è? Che per restare la governance in mano al Comune doveva realizzare un'intesa tra Comune e provincia utilizzando anche la Regione. Questo problema ce l'hanno da dicembre del 2016, hanno aspettato fino all'ultimo secondo, non hanno fatto nulla e poi in Consiglio Comunale abbiamo assistito a una farsa. Nella sostanza loro hanno privatizzato perché non avendo più requisiti di società con il capitale tutto del Comune, ovviamente diventa una società che dovrà per forza, per continuare a funzionare, o si mette a gare il servizio per intero e quindi noi decentreremo tutto, oppure dovrà trovare un socio privato. Eppure questa società ha tutte le carte in regola perché oggi Fiorello gli va dato atto che con grande sacrificio e anche con grande professionalità ha risanato i conti di questo, perché lo dice lo stesso Nisco. Poi però Nisco non può dimenticare che quel debito accumulato è determinato dai suoi amici di Marenda, non è che sono determinati da altri. Prima avevamo un Consiglio di amministrazione di tre persone, un direttore generale, tre sindaci revisori, cioè c'era una pletora di persone che prendeva lo stipendio, l'indennità sull'Amo per 20-22 lavoratori. Oggi grazie anche alle pressioni fatte da noi c'è un amministratore uno, quindi la società è molto più snella e questo ha permesso di risanare. Morale della favola, il Comune sta dismettendo una società sana. Lei è preoccupato per il servizio da erogare ai cittadini oppure per i posti di lavoro che sono all'interno dell'Amo? Ma sono tutti e due gli aspetti a rischio. Immaginate un privato che fa un investimento su una società il cui è fatturato di un milione, che faccia un investimento di 400 mila euro, dovrà tornare un utile. Immaginate se può mandare le macchine alle nostre contrade a prendere 5, 6, 7 persone e via discorrendo. Quindi noi avremo sicuramente un disagio, non solo, ma noi già siamo una città ingolfata dal traffico, quindi anziché potenziare il trasporto pubblico, come già oggi non viene fatto, ma più o meno lo regge, domani mattino noi avremo ancora degli ulteriori ritagli, proprio perché bisogna ricavare costi e benefici. Se il privato fa un investimento ci deve guadagnare. È evidente che diminuendo il servizio e razionalizzando le corse in quell'ottica, noi avremo anche un saldo negativo sull'occupazione. Quali saranno le vostre azioni per far sentire la vostra voce? Noi stiamo togliendo l'ultimo alibi all'amministrazione, chiederemo alla regione che già dai fondi, da circa 300 mila euro al comune di Ariano, per sostenere il trasporto pubblico, gli faremo dire che se vuole fare le scelte in questa direzione le può tranquillamente fare. Quest'unice mitiro, lei già l'ha accennata prima, procede l'assignazione dei loculi, le minoranze attaccano danni, qualsiasi progetto venga messo in essere. Ma è di atriba locale, c'è un pregiudizio alla base? No, non c'è nessun pregiudizio, è solo un problema di contenuti, cioè il bando che è stato fatto per appaltare questi benedetti loculi, che ancora è bloccato per essere chiari, per una diatriba di natura amministrativa, prevede a una clausola che è un cappio al collo per l'amministrazione, prevede che i lotti verranno venduti, quando questi benedetti loculi verranno venduti, chiedo scusa, se questi loculi verranno venduti tutti i problemi non ce ne sono, ma nel momento in cui non verranno venduti tutti, il Comune li deve comprare dalla ditta che ha realizzato l'appalto. Questo esporrebbe, considerato che il trend di decessi è acclarato, c'è un dato statistico inconfudabile, siamo intorno alle 130 morti l'anno, 150 secondo le casualità, una parte di questi hanno già la sistemazione, un 50%, anche un 70% è senza sistemazione, per cui il realizzato in termini di loculi sarebbe di gran lunga superiore al fabbisogno nell'ultimo periodo, negli ultimi dieci anni. Questo significa esporre il Comune, e lo scrivono direttamente gli uffici, a un esborso di un milione di euro. Capirete che per noi è un default cacciare un milione di euro per tenerli mobilizzati. E quindi quale strategie si dovrebbe invoccare? Si sono inventati questa storia di fare le domande, noi non ci siamo messi di traverso perché non vorremmo nemmeno osteggiare un sogno dei cittadini, però il problema è come si fa a fare dai cittadini una domanda per dei loculi che dovranno essere costruiti e non sono costruiti e che vanno a modificare l'appalto? Il problema sta qua. Quindi i cittadini si sono resi disponibili giustamente dal loro punto di vista perché hanno un'aspettativa, però di norma le indagini di mercato si fanno prima di affidare un progetto. non quando il progetto è affidato. Quindi noi su questo avremo ancora grandi problemi, soprattutto perché poi il bando che è stato fatto non è un bando vincolante per il Comune. Il Comune lo dice espressamente, guardate che questa disponibilità che voi mi date non è vincolante, quindi il massimo sarà vincolante per una prossima graduatoria e se le cose vanno male noi addirittura vi restituiremo i soldi. Credo che più per il sappochismo di questo non ce ne sia. Un'estate in sofferenza ancora per l'acqua sul Tricolle accredita la situazione com'è? Come al solito, in abbandono totale. Io non capisco qual è la razza politica di questo sindaco, di questa amministrazione, rispetto a questo problema. Io non so più come spiegarlo per la verità. Probabilmente dovremmo fare qualche cosa di più rispetto a quello che abbiamo fatto. però anche l'altro ieri c'è stato un ultimo disagio di fornitura delle acque con la scusa della condotta rotta a Casalbore. Invece noi oggi a Creta abbiamo un'altra volta le tubazioni rotte, quindi siamo in continua emergenza e non c'è minimamente la volontà di metterci mano. L'altro calore ha dato la disponibilità a sostituire le condotte, però il Comune continua in perterrito a sviare questo benedetto problema. Potremmo risolvere sia il traffico che dare una mano alla carenza idrica. Invece c'è un menefreghismo totale e credo che questo prima o poi lo pagherà. E gli interventi che ha attuato anche il vice sindaco popolo non sono stati lungimiranti? Chiacchiere, solo chiacchiere. Se mi dici un intervento che è stato fatto, ne prendiamo atto. Non ce n'è nessuno, ci sono stati dei sopralluoghi, perenni sopralluoghi, ma non c'è nessuna decisione. È stato messo un po' di materiale per rendere percorribile la strada, per tamponare un po' le buche, ma non c'è né asfalto, niente. È una strada sterrata che resta sterrata come prima, con le tubazioni che continuano a perdere, perché il problema è strutturale, non è tampone. Sentano, non crede che sia necessario fare un ragionamento bipartisan su alcune questioni? Cimitero, infrastrutture, traffico? Perché dobbiamo andare sempre allo scontro sulle questioni? No, su questo per carità, forse dobbiamo essere un po' più chiari, o siamo noi poco bravi a comunicare quello che noi facciamo. Noi non siamo per partito contro, nel modo più assoluto. Noi abbiamo la nostra visione sui problemi, sugli aspetti politici e anche sulla gestione. Su alcuni aspetti fondamentali, per esempio quello di Giorgione, noi abbiamo fortemente sostenuto e voluto l'investimento e la realizzazione. Tanto è vero che il PD di Avellino, che è il maggior partito insieme all'ente provincia, ha votato a favore dopo che ci hanno interpellato fino a prova contraria. E di conseguenza noi abbiamo sostenuto la necessità di togliere Giorgione come problemi e ritrovare un'altra entità. Sull'area vasta, che dovrebbe rappresentare il prossimo programma di investimento, non solo per il territorio aereano, ma anche per il territorio limitrofe, noi abbiamo sostenuto tutte le proposte che sono state fatte dagli altri, compresa le nostre. Quindi il ragionamento è stato fatto in modo organico. Sulla sanità, idem, quindi sui problemi strutturali, ovviamente il nostro contributo non lo facciamo mancare, così come ovviamente condividiamo anche le cose degli altri come gli altri condividono le nostre. Il problema è che sulla gestione dell'ordinario, che poi diventa quello più visibile, ovviamente c'è una diversità di impostazioni. Per ordinario intendiamo anche il traffico accardito. Cioè lei non vede una progettazione per gli anni futuri di uno sviluppo diverso? No, io per la verità immagino uno sviluppo diverso per Ariano. Solo che se andiamo avanti di questo passo restiamo bloccati dai problemi negativi che oggi abbiamo. Cioè il traffico di cardito credo che sia uno dei problemi più importanti per questa città. E il sindaco Gambacorta ha una responsabilità colossale su questa strada, perché al di là della soluzione tampone, che potrebbe essere di facile soluzione di Creta, c'è il problema della bretella. Una bretella finanziata a 35 milioni di euro, che non sono bruscolini, per realizzare una bretella che aiuterebbe cardito. Quando la provincia dal 2014 è impantanata in un procedimento amministrativo, c'era un ricorso al TAR, grazie all'opposizione fatta dal PD insieme al Consiglio Comunale siamo riusciti a spingere la provincia a chiedere al TAR di fissare l'udienza. Il TAR è stato celerissimo. A maggio hanno chiesto l'udienza, a luglio è stata fatta. Adesso a ottobre ci sarà un nuovo dibattimento, perché il Tribunale ha voluto nominare un perito per verificare le cose, se erano fatte in modo corretto oppure meno. Noi abbiamo già detto che non è stata fatta la procedura corretta da parte della provincia, quindi tra poco noi avremo una risposta del Tribunale su questa strada. Però la provincia non ha fatto nulla. Il Presidente, nonché il Sindaco, su questo non si è adoperato. Quindi sono queste le mancanze che noi denunciamo quotidianamente. Presidio dell'ospedale, la difesa è ad oltranza. Che cosa state facendo? L'ospedale di Ariano ovviamente deve fare un salto di qualità. Il problema è che noi abbiamo un concetto, secondo me, che va un po' rivisitato. Quando noi parliamo di sanità parliamo di ospedali. Io credo che bisogna incominciare a potenziare anche la medicina preventiva, tutto quello che la sanità prevede. Quindi il distretto ovviamente va rivisitato a nostro avviso e va implementato. È vero che noi dobbiamo avere una struttura sanitaria in grado di, sull'emergenza, di darci tutto il supporto possibile e immaginabile perché questo ospedale mantenga un livello alto. Adesso c'è tutta questa discussione rispetto alla radioterapia. Noi ci auspichiamo che la regione sappia tranquillamente riconoscere anche ad Ariano questo ruolo, senza andare in concorrenza con gli altri. A me sto fatto della concorrenza spietata tra le parti non aiuta. È preferibile che un territorio ce ne abbia due anziché non ne abbia nessuno. Credo che le procedure avviate siano in questa direzione. Quindi il futuro dell'ospedale passa anche attraverso questo tipo di scelte. Ma per la sanità reale, quella giornaliere, io credo che il distretto dobbiamo rilanciare anche le funzioni di controllo e di prevenzione. Aria vasta, quali vantaggi potrebbe prendere Ariano? Ariano come tutto il territorio, Ariano già ha un grande vantaggio, di essere punto di coagulo e di aggregazione in un territorio molto vasto. Il problema è che non sempre l'abbiamo interpretato. Spesse volte la mancanza di legittimità territoriale l'hanno pagata pure gli altri e ce l'hanno rinfacciato con molta chiarezza. Oggi siamo in una condizione di poter esprimere ancora un valore aggiunto. Tutto dipende da quello che mettiamo all'interno. Ovviamente questo progetto di finanziamento non interverrà sulla filiera produttiva, perché la filiera produttiva troverà altri canali di approvvigionamento delle risorse finanziarie. Il nostro sarà un intervento sulle infrastrutture collaterali, sull'assistenza alle persone, quindi su tutto quello che diventa importante e prioritario per una comunità, oltre il lavoro, a poter avere una gestione sana di tutta la vivibilità nella sua interesse. Quindi trasporto, per alcuni versi le viabilità, la ruralità, la produzione di prodotti particolari, quindi tutto quello che può aiutare un territorio allo sviluppo. Io mi auguro che insieme agli altri stiamo facendo un buon lavoro e quindi verificheremo anche questo. Ne approfitto per sapere il punto di vista di Michele Caso, la sindacalista sull'industria italiana autobus. Si sta producendo, stiamo andando avanti, è diventata una realtà effettiva? Sì, tanto è vero che già c'è stata la produzione dei primi mezzi, è una realtà che inaspettatamente, diciamoci la verità, nessuno avrebbe speso un nichilino sulla ripartenza di questo stabilimento, invece devo dire che grazie al governo Renzi, a De Vincentis, che è stato miracoloso rispetto a questo, ha rimesso in modo un'azienda, ma non su un criterio di tecnologia superata, su una possibilità reale di rilancio, perché è cambiato il trasporto, sono cambiate le qualità dei mezzi e questa azienda dovrà produrre per questo tipo di settore. Il problema adesso è il mercato, però io credo che con un buon contenimento dei costi e con un buon ragionamento di programmazione anche il mercato possa recepire la produzione di questi 20 mezzi. Salve, da Consiglio Comunale d'Ariano c'è un nuovo gruppo politico ovviamente in maggioranza, ci stiamo muovendo, stiamo andando verso le direzioni delle politiche? Ormai sì. Credo che questo adesso, Cabbacorta non ha rassegnato le dimissioni per un'eventuale candidatura, credo che adesso si apriranno i problemi al suo interno, non all'interno degli altri, per essere chiari, perché tutte le cambiali che lui ha promesso di dover pagare, qualcuno li passerà all'incasso e ovviamente li vorrei incassare prima, non dopo, mi sembra anche legittimo questo, fino a prova contraria. E da qui la nascita di un nuovo aggregazione all'interno della stessa maggioranza, non ci è stata spiegata la motivazione, solo attraverso un comunicato stampa, però il distinguo l'ho visto abbastanza netto, è chiaro, adesso verificheremo nella quotidianità, sulle scelte politiche verranno fatte, quale sarà il suo grado di autonomia e la sua capacità di proposizione, per la verità fino adesso non abbiamo visto nulla rispetto al passato uguale, così come per esempio dobbiamo condannare il fatto che in Consiglio ci si va per le quisquiglie spesse volte, oltre che per gli adembimenti, e adesso il 21 c'è la conferenza dei servizi sull'alta capacità, e Adariano è fortemente interessata, perché sul suo territorio ci sarà la realizzazione della stazione e noi in Consiglio non andiamo per fare una discussione, quindi lui si presenterà a Roma da solo, ovviamente un'altra cancà, un'altra buttata pubblicitaria, però poi nella sostanza la discussione vera non c'è. Questa dovrebbe essere un'altra questione da affrontare in maniera bipartisan? Penso sia proprio necessario, invece come vedi non sempre siamo noi che ci tiriamo fuori dal meccanismo, ma è lui che pecca di questo eccessivo protagonismo pensando di essere il salvatore della patria, invece poi Adariano lo sta uccidendo. Quale sarà il ruolo del Partito Democratico di Adariano alle prossime consultazioni politiche? Noi sosteremo il PD inevitabilmente, adesso siamo agli ultimi scorci di questa benedetta fase preelettorale, credo che ormai alcune cose sono abbastanza chiare, il collegio sarà Avellino Benevento, i capolista saranno quelli definiti, quindi sarà un partito che lavorerà su un fronte completamente nuovo. Ovviamente mi auguro che le scelte verranno fatte attraverso le primarie, in modo tale da legittimare maggiormente o il criterio di scelta possa essere abbastanza chiaro e, come posso dire, coeso. È evidente che c'è una crisi della rappresentatività. Il Partito Popolare, comunque, tra diecimila difficoltà, oggi resta l'unico partito che celebra un congresso, che ha delle forme di partecipazione della società, gli altri partiti, io non vedo che celebra né congressi e tantomeno l'indagine. 5 Stelle nomina il Presidente, il prossimo candidato alla presenza del Consiglio, attraverso le procedure, l'abbiamo viste tutte. Cioè, il PD non può pagare per un problema di comunicazione la sostanza vera, cioè che lui è un partito che ha un radicamento popolare e sociale e gli altri invece che sono arroccati su protagonismi e su gestione centralizzata e poi di fatto non hanno nessun controgiudizio dei cittadini. Avere un dibattito come ce l'ha il PD in questo momento è un punto di forza. Spessa volta le persone lo intendono come un punto di debolezza, ma non è così. Senta, tranne qualche giudizio severo, qualche frecciatina, l'ho visto un po' più moderato nell'intervista rispetto allo scorso anno. Si sta preparando ad una candidatura? Che sta facendo? Nel modo più assoluto. Sono più sereno perché prendo coscienza sempre di più delle questioni in termini politici, però non mi sembra di essere tenero rispetto all'amministrazione fino a prova contraria. Il problema è che vorremmo un'amministrazione più attenta, un'amministrazione meno tattica. C'è un tatticismo esasperato perché c'è la mancanza di una linea politica, c'è un vuoto e allora uno tende a coprire e dimascherare. Volgarmente si dice che si metta la polvere sotto il tappeto, però non c'è una visibilità dell'amministrazione che sia, come posso dire, efficiente e condivisa dalla cittadinanza. Ovviamente noi siamo abbastanza convinti e nel periodo che adesso andremo ad affrontare, visto che abbiamo anche regolarizzato il partito, avremo anche tutta la forza e tutte le componenti per fare un'opposizione ancora più stringente e più, come posso dire, più non qualificata perché non è questo, però un'opposizione che metta gli altri con le spalle al vuoto. Senti, il rapporto con le altre forze di centro-sinistra? Devo dire che sono ottimi con i socialisti di Guido Riccio c'è una simbiosi costante e continua, tant'è vero che sia le discussioni che anche le votazioni ci vedono d'accordo. Abbiamo avuto questo dispiacere della divisione con MDP, con il gruppo di Giovanni La Vita, che per la verità non ho mai compreso nello spirito e nella valenza. io mi auguro di poterlo recuperare in proseguo per altre prospettive, però sull'attività politica tocca aspettare qualche volta, però poi alla fine siamo tutti. Senta, lei ha ancora quel gruppo che l'ha appoggiata alle scorse elezioni amministrative, ha perso qualcosa? Sicuramente, ha perso il rapporto con il gruppo di Gino Cusano, con Gino Cusano, per la verità, senza girarci intorno e dare nome ad altri partiti. Però credo che il rapporto con le persone sia rimasto inalterato, anche con lo stesso Gino, solo che la vita è fatta di scelte, fino a proprio contraria. E coerentemente a quello che avevamo stabilito in campagna elettorale, noi personalmente ho fatto quello che devo fare, cioè ho fatto un passo in avanti rispetto a una lista civica che non permetteva di svolgere un ruolo non personale, ma proprio di quel gruppo che tanto aveva lavorato e tanto aveva condiviso. Credete di avere le qualità ancora per candidarsi? Questo non dipende da me, non ho avuto mai le qualità. Io continuo a sostenere, e non è in modo ipocrita, che se la politica è arrivata al mio livello, probabilmente, c'è da farsi una domanda e il perché. Credo che oggi la politica non stia interpellando gli uomini migliori, gli uomini di qualità. E il livello è sceso parecchio. Non mi costa dire questa cosa, la dico con franchezza e soprattutto consapevole delle mie dimensioni, del mio spessore e della mia conoscenza. Credo che dobbiamo invece cambiare un po' il sistema di far politica. C'è ancora un meccanismo vetusto, vecchio, fatto di tattica, poca chiarezza, non improvvisazione. Invece io credo che siccome in democrazia non abbiamo un altro sistema della rappresentanza della comunità serve interpretare in modo diverso. Quindi mi auguro che insieme a me, con me, altri insieme, quindi insieme, il concetto dell'insieme sia un fattore essenziale. Si possa continuare a fare politica, si deve continuare a fare politica. Caso, io la ringrazio per essere intervenuto nella trasmissione Politica e Sviluppo e faccio gli auguri di buon lavoro e di prosieguo della sua attività. Grazie. Grazie, buonasera a tutti e a tutti gli spettatori, arrivederci. www.canale58.com la tv sul web notizie, video, rubriche diretta streaming scarica l'app di Canale 58 per tablet, smartphone, iPhone. e a tutti gli spettatori, anche se